Stamattina come in tante altre città in Italia e nel mondo si è manifestato per chiedere ai governi azioni contro i cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. Tanti gli studenti che hanno deciso di aderire all'iniziativa si sono dati appuntamento di buon mattino in piazza Matteotti per dare il via al corteo che poi ha raggiunto piazza Lido. Sì abbiamo deciso di realizzare un punto di incontro, abbiamo deciso di incontrarci qui in piazza per manifestare dato che si fa in ogni parte del mondo perché non farla anche bagnare e andare a manifestare in un'altra città come Reggio. Abbiamo deciso di supportare questa iniziativa, questo sciopero appunto nel nostro paese. Bene anche perché Andrea è una, diciamo che è volontaria la cosa perché tutti, ed è anche partecipata vero? Abbiamo organizzato tutti i ragazzi delle quinte perché ogni anno pure con questi scioperi non sapevamo, cioè volevamo fare un nuovo cambiamento e coinvolgere tutto il liceo e anche più persone del paese. Infatti avevamo pubblicizzato questa cosa tramite i social e abbiamo invitato tutto il paese di Bagnaro. L'importanza di questa iniziativa? Ci siamo riuniti oggi per cercare di sensibilizzare più persone possibili perché appunto pensiamo che deve partire da noi, dal nostro paese. Sarebbe inutile farlo a Reggio se siamo noi stessi cittadini di Bagnara, non ad allontanarci da quelli che sono i nostri veri problemi. Quindi vorremmo sensibilizzare più persone possibili. Abbiamo cercato appunto le due quinte di Bagnara di coinvolgerle e appunto il comune ce l'ha permesso, sono stati molto disponibili. Sì, il messaggio è... Poi amola bene. Cosa prevede l'iniziativa stamattina? Allora, l'iniziativa prevede prima di incontrarsi qui in piazza Matteotti per proseguire tutti insieme verso la piazza intestata Rosario Villari. In seguito lasceremo appunto i nostri cartelloni, tutto ciò che abbiamo preparato per oggi in quella piazza e proseguiremo con la pulizia delle spiagge. Abbiamo scelto il tratto da Marturano al campo sportivo e speriamo di riuscire in questa nostra iniziativa perché così eviteremo che molta plastica, molti rifiuti finiscano in mare. Perché il messaggio che vorremmo mandare è appunto questo. Noi dobbiamo partire dal nostro piccolo, quindi iniziamo facendo le piccole cose. Anche il sindaco di Bagnara Calabar, Gregorio Frosina, non ha voluto far mancare ai giovani il proprio sostegno. Sono contento che anche gli studenti di Bagnara hanno voluto partecipare a questa iniziativa. Il comune di Bagnara ha dato l'autorizzazione per l'occupazione di questa piazza, di piazza Matteotti e ha anche autorizzato la pulizia della spiaggia. Questa è un'iniziativa molto importante. Mi auguro che a livello mondiale si diano da fare per l'emergenza climatica e che il mondo se non si dà da fare corriamo seri rischio. Tanto è vero che noi qua in Italia abbiamo il Monte Bianco che diciamo c'è i ghiacciari che si stanno sciogliendo. Quindi mi auguro che ci siamo tutti da fare per l'emergenza climatica perché è fondamentale per l'Italia e per il mondo intero.